Ciao a tutti, eccomi tornato con un nuovo video ASMR e oggi, come avete dato dal titolo, è un ASMR con queste stress ball che si chiamano Grip Stress Ball e le sto facendo ne avevo fatto uno con quell'arancione che mi aveva regalato la Stefi solo che ho perso sia la registrazione dell'audio che la registrazione video e quindi lo sto rifacendo con queste che mi sono arrivate oggi non hanno lo stesso suono ma giocandoci, giocandoci si sono ammorbidite e hanno assunto un suono particolare che mi piace un sacco e l'avete visto anche sicuramente su Instagram ma poi lo vedrete mettete anche voi ed ecco qui questo verde diventa blu e questo blu diventa verde sono molto rilassanti, a me piacciono un botto sia il suono che il fatto che cambiano colore infatti mi sta venendo la pelle d'occa in questo momento e mi piace troppo schiacciarle e ascoltarle e guardarle hanno due suoni diversi perché hanno anche due materiali diversi questo è molto più fino infatti si vede che sotto c'è il verde c'è un po' di verde quindi schiacciando fa un suono diverso da questo questo è un po' più massiccio infatti il blu non si vede e fa sentite troppo bello questo mi piace un po' meno però comunque ecco che mi sta venendo la pelle d'occa comunque è bello anche da vedere da sentire poi mischiando lì è bello vedere anche il fatto che cambiano colore guardate wow che figo sto registrando questo video di pomeriggio quindi spero che non mi venga a disturbare nessuno poi questo si vede che è più usato perché è più morbido invece questo è ancora un po' duro guardate la differenza questo è più come si dice guardate questo è anche più largo la retina perché è stato strezzato di più invece questo no all'a spillare al Lo so che non è messa a fuoco Troppo belle Ne voglio comprare altre Quell'arancione non posso più toccarla perché si è bucata E non voglio romperla perché voglio tenerla per ricordo Puffe dei Puffe dei Puffe dei Io spero non arrivi il corriere in questo momento perché sto aspettando un pacco E' un peccato che ho perso la registrazione e il video dell'altro Perché l'altro era molto ancora più rilassante Molto più rilassante E anche il mio stomaco Si sta rilassando E' un peccato più rilassante E' un peccato che mi piace E' un peccato che ti è piacato E' un peccato che ti è piacato E' un peccato che ti è piacato Grazie a tutti. 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 Comunque io spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo al prossimo video ASMR che non so quando sarà però prometto che ci sarà molto presto.